Proseguono le indagini della procura di Savona sull'esplosione che nella notte fra il 15 e il 16 gennaio scorsi ha distrutto una palazzina di tre piani ad Arnasco e causato la morte di sei persone. La procura ha affidato il compito di redigere una perizia al professor Luca Martino, docente del Politecnico di Torino. Martino avrà quattro mesi di tempo per far luce su quanto accaduto. Fin dal primo momento, quale causa dello scoppio di Arnasco è stata indicata una fuga di gas e sono stati anche sollevati dubbi sull'efficienza dell'impianto. L'avvocato Alberto Bonifacino, legale dei proprietari dello stabile distrutto, Giovanni Accame e la moglie Margherita Toia, ha evidenziato prima di tutto che lo stabile è stato costruito senza commettere alcun abuso edilizio, anche se al catastro le mappe risultano incomplete o difformi a causa di errori commessi nel passaggio dal catastro dei terreni agricoli a quello degli edifici. Lo stesso legale ha inoltre sottolineato che i lavori di ristrutturazione effettuati nel 2001, che comprendevano l'allaccio alla rete GPL, sono stati eseguiti da una ditta specializzata. Il punto è che non è stato ancora trovato il certificato di conformità dell'impianto del gas.